Ciao, siamo all'ultima giornata del Meeting 13. Uno dei nostri tanti ospiti, forse il più gradito, è Stefano. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Qui dietro noi abbiamo alcuni componenti sopravvissuti del Social Media Team a questa dura settimana a Rimini anche se il caldo non ci ha soffocato e abbiamo avuto soltanto un giorno di pioggia. Ma al di là di questo vorrei chiedere qualche domanda a Stefano che quest'anno è il portavoce e il capo dell'ufficio stampa per la prima volta. Come è stata questa esperienza? Devo dire che è stata molto bella, sono veramente felice dopo una settimana, è stata molto molto stancante, credevo che fosse più stancante dal punto di vista dello stress che dal punto di vista fisico, invece devo dire che sono molto più stanco che stressato, sono molto felice. È una settimana sicuramente intensa in cui ho trovato una nuova casa, la sala stampa è diventata casa mia per una settimana e ho trovato anche tanti amici giornalisti. La cosa interessante secondo me è che molti dei giornalisti che sono arrivati sono diventati proprio, posso dirlo, amici nel rispetto certamente delle parti ma la sfida che ho voluto iniziare quest'anno è proprio di entrare in rapporto con loro. Raccontaci un aneddoto curioso di questa esperienza. Gli aneddoti sono tanti perché i giornalisti sono molti e variegati, ci sono delle cose che si possono dire e altre no, aneddoti successi in sala stampa con giornalisti un po' particolari che hanno fatto molto sorridere però non li posso rendere più pubblici di quanti lo sono state finora. Se invece parliamo dell'aspetto più serio, sicuramente uno dei personaggi che mi ha colpito di più in sala stampa è Don Pepe Di Paola, a parte tutti gli uomini istituzionali che quest'anno almeno si sono confrontati con il tema del meeting e hanno sviluppato rispetto alla sfida del meeting quello che è poi nello specifico del loro lavoro. Uno di quelli che mi ha colpito di più, come dicevo, è Don Pepe Di Paola che ha raccontato la sua amicizia con Papa Bergoglio. Sul nostro sfondo c'è la locandina del meeting e c'è qualcuno che guarda la finestra. Cosa possiamo vedere nella finestra del 2014? Sicuramente vediamo il prossimo meeting. Tra poco verrà annunciato il nuovo titolo dalla Presidente Emilia Guarnieri, quindi vediamo già il nuovo meeting. Un nuovo meeting che, visto quello che è successo quest'anno, avrà sicuramente bisogno di una squadra nuova o riconfermata del Social Media Team. Social Media Team ha qualcosa da aggiungere? Domande? Abbiamo una domanda? No, nessuna domanda, però teniamo a precisare che qui continuiamo a chiamarlo Stefano, ma non si chiama Stefano. No, mi chiamo Stefano, ma ormai non mi ci chiama più nessuno, neanche mia mamma, per cui tutti mi chiamano Steno e ormai è diventato il mio nome. Account Twitter? Account Twitter è Stefano Pichi. A posto, seguitelo e twittatelo. Ciao. Grazie. Tutta bene? Ottimo. Tutta bene?